Grazie. Va bene, allora, grazie mille di essere qui, siamo veramente felici, altrimenti siete tanti, non ci aspettavamo, è partita da, facciamo una cosa con una decina di amici, ma ancora di più, però disturbi, con una decina di amici per vedere un po' che cosa abbiamo combinato, perché in realtà noi ci siamo visti una sera, una sera abbiamo detto, vediamoci, te portavo la fisarmonica, ci vediamo a casa mia, c'è il pianoforte, ci siamo seduti, abbiamo bevuto, sono bravo, seconda cosa abbiamo mangiato qualcosa, e abbiamo suonato, ma in realtà, se non avessimo bevuto e mangiato, soprattutto bevuto, non avremmo più risuonato, perché non si sa che cosa è uscito, era veramente una cosa casuale, dopodiché abbiamo iniziato a scrivere delle cose, ci è venuto da scrivere delle cose, mamma mia, è partita la vena, è partita la vena e abbiamo iniziato a scrivere delle cose e le abbiamo messe insieme, sono cose tutte diverse l'una dall'altra, però abbiamo pensato che potessero essere simpatiche da proporre, e allora abbiamo scelto accuratamente voi, dopo aver scelto il nome, uno, dopo aver scelto il nome, a seconda come si chiamava il trio abbiamo scelto il pubblico, quindi voi siete un pubblico bio, e lo diciamo prima perché non lo sapevate, il trio Dio non era bellissimo, perché era per Dio un trio Dio, poi bisogna dire ragazzi, esageriamo, trio Dio e invece siamo giunti al trio Dio, eccolo qua, e allora è finito il prologo, signore e signori, inizia lo spettacolo del trio Dio.